Presentato l'osservatorio immobiliare della città di Napoli, un lavoro editoriale voluto dal presidente della FIAIP Napoli Claudio Matarazzo e dal direttivo che fa il punto delle quotazioni immobiliari di Napoli e di gran parte della provincia. L'evento è stata l'occasione giusta per fare il punto sui nuovi scenari della professione di agente immobiliare alla luce delle ultime leggi approvate in Europa. Salvatore Mirabile, presidente della FIAIP Campania, Napoli oggi presenta il suo osservatorio immobiliare unitamente ad una guida all'acquisto. Sempre più servizi, insomma gli agenti immobiliari si danno da fare per offrire servizi sempre più qualificati a chi ha esigenza di compravendere casa e perché no anche agli altri colleghi che poi si possono anche aggiornare sulle ultime novità. Sì, questo in effetti è il compito di un'associazione di categoria, cioè cercare di offrire dei servizi ma non solo tra noi agenti immobiliari ma offrire dei servizi anche al cosiddetto cittadino consumatore. La presentazione dei dati dell'osservatorio appunto di Napoli ha questo ruolo, quello di informare i cittadini e dare il giusto valore alle loro proprietà. Intendiamo presentarlo come una bussola, un orientamento appunto a chi intende svolgere qualsiasi tipo di operazione immobiliare. Con Napoli si chiude il cerchio delle cinque città della Campania dove già sono stati presentati i dati. Ci accingiamo a presentare l'osservatorio immobiliare regionale per dare un risalto maggiore e migliore sia alle competenze e alle professionalità dell'agente immobiliare e sia informare tutti i cittadini della Campania del reale valore delle loro proprietà, dei loro immobili.